Cosa fai? Ti laghi? Eh? Cosa c'è? Artusino. Artusino? Cosa c'è, povero gattino? Cosa c'hai? Eh? Sì, sì, sono qui con te, ti tengo compagnia. Eh? Va bene? Ti gratto? Ti gratto, sì, sì, Artusino, sì, 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 poverino questo gattolino. A 18 anni, ahi, a 18 anni, diglielo, mi hai dato un morso? Eh? Bene, ora va a nanna. Signore, signori, e ora ha mangiato, ha bevuto, vedi? Però c'è qualcosa, gli rimane di traverso. E ora va a letto e va a ritornare a casa. Ciao Arturo! Ciao! Ciao Arturino, ciao!